Terminata qui la gara al San Paolo fra l'Andromat e appunto il titolo Pirata risultato pesante, partita a senso unico anche se sul finale ci ha provato la squadra di casa abbiamo fuori il portiere titolare della squadra di Fondana, Giunta è normale che per noi sia un risultato importante vincere 5 a 1 e essere venuto a giocare con sei giocatori di movimento e due portieri è difficile andare a giocare ovunque, con la prima, con l'ultima, con la penultima e invece abbiamo fatto una gran partita, grande partita in difesa, grande partita in attacco potevamo per assurdo fare anche qualche gol in più visto tutte le superiorità numeriche in trattinzione che abbiamo avuto però è ottimo che siamo contenti di essere qui a prenderci tre punti visto le condizioni in cui stavamo Prestazione anche affidabile del portiere di casa, Luca che conosci bene no? Sì, Luca è un grande amico, è un portiere di assoluto livello, è un portiere affidabile ti può dare anche il quinto uomo, cosa che ad esempio io con i piedi da falegname che ho non posso dare sta facendo a tanta stima, è uno dei leader di questa squadra mi sembra ho visto anche le precedenti partite, fa delle parate pesanti, importanti come hai visto il complesso dell'andromat? secondo me c'è qualcosina che devono sistemare penso soprattutto in fase offensiva perché non voglio comunque a me oggi non li ho mai visti giocare quindi per me è difficile dare un giudizio oggi a me sono arrivati pochi, 4-5 tiri quindi alla luce di quello che ho visto oggi forse qualcosina in fase offensiva si potrebbero sistemare ma penso che hanno tutte le carte in regola per raggiungere i loro obiettivi di fine anno la Lidl Pirata che campionato potrà fare da qui al prossimo futuro? bella domanda, non è facile rispondere a questa domanda perché noi ogni partita perdiamo due o tre giocatori oggi due giocatori sono infortunati sabato scorso un nostro giocatore importante il nostro capocannoniere Triolo si è stirato l'altro giocatore Fandin ha un problema al ginocchio non si capisce se si deve operare o no oggi avevamo un altro assente perché è malato l'altro assente è saccoccio perché lavorava altri sono affebbrati quindi un campionato a salvarsi allora? quindi è difficile un campionato a salvarsi? no io non credo facciamo il campionato a salvarci è una battuta che non puoi dire sì sì, penso che possiamo fare un buon campionato un buon campionato con la testa libera dove noi andiamo sabato in campo giochiamo, abbiamo dato tutto, abbiamo vinto bene se abbiamo dato tutto abbiamo perso pazienza la nostra condizione attuale è questa sabato giocherete con l'arte è un'altra formazione di alte classifiche sì, sarà una partita difficile sicuramente però dobbiamo accettare di giocare anche con pochissimi giocatori queste partite perché nessuno vuole scendere in campo a fare brutte figure d'accordo, bucca al lupo crepi il lupo, grazie il tecnico della squadra ospite è scappato via per impegni imperlenti abbiamo l'allenatore della squadra di casa appunto Gian Pietro di Clemente, conosciamo benissimo allora fa male una sconfitta del genere mettiamola così con le squadre di alta classifica anche se il leader Pietro non è più alta classifica ci perdiamo pesanti forse la squadra ha paura di queste squadre che ne so? no, diciamo che secondo me oggi non c'è stata proprio la partita perché io ti dico un discorso penso emotivo di poca concentrazione e te lo spiego pure perché perché innanzitutto noi veniamo dal fermo di sabato scorso quindi ha fatto male allora il fermo? sì, fa male perché avevamo cominciato a prendere un po' di ritmo e forse abbiamo lavorato molto questa settimana ma non penso ma non è quello, è un discorso più mentale vedi l'allenamento che loro sono sette contati allora la presunzione ti porta non certamente mia perché ovviamente ne aveva parlato già qualcuno ti diceva sono sette è fattibile dico no proprio perché sono sette nascono i nostri problemi perché? mezza papera del portiere una zero, una mezza papera la squadra in sette che cosa fa? mantiene chiuso e riparte tu che stai perdendo che fai? vai un po' più alto bravi nell'uno contro uno se ne vanno senza problemi in più le immagini ci sono sull'uno a zero quante parate ha fatto Alessandro? il loro portiere ha fatto delle belle parate secondo me focalizzerei molto le belle parate che ha fatto Alessandro ha fatto veramente belle parate però questa non è una giustificazione è che comunque poi cosa succede? che il nervoso ti porta a non accettare e là ti sei fregato da solo perché il nervoso ti porta a non accettare ma fai tutto quello che hai sbagliato come ad esempio ti dico all'ultimo io faccio uscire un Netany che fondamentalmente mi potrebbe fare da boa però non voglio fare il gioco con la boa perché stringi tutto al centro faccio uscire Netany per potermi allargare sulle fasce che succede? ci va ci va Cardone a fare la boa ma chi te l'ha chiesto di fare la boa? cioè piccolezze no? però se a quel punto ognuno di loro vuole riuscire a risolvere il problema ma ognuno di loro e non giocano da squadra non va avanti e questa è la differenza quindi ripeto io infatti non mi sono arrabbiato per niente perché non c'è niente da arrabbiarsi semplicemente dire speriamo che sia una giornata storta appunto vediamo dalla prossima partita che non sarà facile contro le Ragles però voglio dire certamente non uscire con una brutta figura come stiamo uscendo oggi insomma anche perché ripeto rispetto a diciamo allo smart working che abbiamo comunque la squadra ha perso comunque però il primo tempo ha retto l'urto di una squadra che comunque ma è un discorso allora tutti i golli che sono stati fatti eccezione dell'1-0 che golli sono? che reti sono? tutto in contropiede giusto? e allora lo smart working non si chiude là dietro e aspetta il momento per ripartire smart working che gioca allora tu ti chiudi fai il gioco contrario qua tra due squadre che più o meno diciamo che quasi quasi si equivalgono che sono leggermente superiori leggermente ma perché? perché i ragazzotti che hanno hanno una dinamicità diversa rispetto ai ragazzotti miei cioè una reattività diversa al di là della bravura dell'allenatore quella è ovvio è in dubbio l'ho sempre detto ma la dinamicità dei ragazzi che hanno loro è diversa contro movimento parti a me voglio dire ti fai contro movimento e parti già è passato l'autotreno a prenderli quella è la differenza ok? che i nostri giocatori under stanno crescendo i loro under già hanno cominciato da ragazzini a fare determinati movimenti ma mentali perché il discorso lì è mentale non è tanto messi uno contro uno potrebbero essere più veloci ma lì entra e gioco la mente cioè quell'attimo di pausa che hanno i miei non ce l'hanno loro e quell'attimo di pausa fa sì che arrivi prima in porta questa differenza senti un'altra cosa ma secondo te com'è questo ritolpirato a livello tecnica anche perché il portiere giunto si lamentava doveva mancarsi di molti giocatori secondo te come è il livello di squadra come è il livello di squadra loro centro alta classifica non pensare che con gli innesti doveva migliorare potresti anche peggiorare perché poi ci sta la gestione del gruppo perché oggi un allenatore che ha 7-8 giocatori è quasi un allenatore fortunato perché non deve sfruttare la mente per poter cercare di accontentare tutti è quello e quindi dobbiamo vedere la migliore situazione per poter fare risultato comincia a mettere 10-12 persone oltre a quello c'è anche il discorso gestione e non è facile a volte un allenatore è portato all'errore della gestione all'errore tecnico per l'errore della gestione quindi ripeto per me sono al momento una spanna un po' al di sopra di noi però è fattibile secondo me sono fattibile poi è normale dopo una sconfitta del genere dovrei stare zitto ma io non sto zitto non ho problemi hai già annunciato il prossimo match contro l'errore non sappiamo oggi che cosa sta facendo ma se putacaso comunque dovesse portare a caso l'altro risultato positivo sarà carica sta vincendo l'errore no non sto dicendo putacaso vabbè oggi mi sembra che vedo a giocare contro zona pontina quella è una bella partita la zona pontina la vedo una squadra molto rognosa io la zona pontina vedo una squadra molto ma molto rognosa quindi le quattro posizioni dovrebbero essere queste zona pontina Ardea Smartworking ed Heracles queste le quattro posizioni che si dovranno a giocare tutto il resto è buone squadre e cattive squadre noi cerchiamo di mettersi in posizione almeno tra le buone e le cattive vediamo in bocca tu crepi grazie a tutti grazie a tutti